Buongiorno, sono Antonio Ventre, psicologo psicoterapeuta. Con questo mio ultimo libro dal titolo Anoressia nervosa, un possibile percorso di guarigione, Armando Editore, mi sono posto come principale obiettivo contribuire ad aprire le porte della comprensione, soprattutto delle possibili cause che originano il problema dell'anoressia nervosa, in particolar modo quella a lungo termine. Un problema che causa sofferenza a sé e agli altri, quindi alle persone care, ma non solo alle persone care. E le domande che io mi pongo soprattutto sono dove nasce il problema, come si può affrontarlo, anche se non risolverlo, come si può affrontarlo per vivere meglio, per stare meglio, per cambiare la qualità della vita. Tenterò di dare risposte a queste e ad altre domande, supportato come e mia caratteristica, da un approccio multidisciplinare.